C'è un dipinto tra i più famosi dell'arte moderna. Rappresenta visivamente dove porta la convinzione che la vita non ha senso. Su uno sfondo rossastro, che gli ispira già da solo angoscia, un uomo attraverso correndo un ponte, sorpassando due individui che sembrano ignari e indifferenti a tutto. Agli occhi sbarrati, questa figura centrale, con le mani intorno alla bocca, emette un grido e si capisce che è un grido di disperazione. Parla naturalmente del dipinto L'Urlo, di Edvard Munch. Gesù ha detto, io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre. Chi crede in Cristo ha la possibilità di resistere alla grande tentazione del non senso della vita, che porta spesso al suicidio. Chi crede in Cristo non cammina nelle tenebre. sa da dove viene, sa dove va, sa cosa deve fare nel frattempo. Soprattutto sa che è amato da qualcuno che per dimostrarglielo è salito sulla croce.